Arezzo è quarta in Toscana, ma al di là dei numeri, lei oggi rappresenta un'intera categoria di professionisti, ma è anche un professionista a sua volta. Come vive questa campagna vaccinale? Sarete i primi a farlo? Tantissime lezioni, soprattutto nella nostra categoria. Noi ci siamo anche adoperati per aiutare affinché questo software, questa piattaforma abbia tantissime richieste, a parte anche di tantissimi professionisti come gli infermieri. Noi siamo favorevoli al vaccino, siamo favorevoli affinché si possa dare una risposta non solo a se stessi vaccinandosi, ma dare una risposta a tutta la comunità, perché più siamo vaccinati, più sconfiggiamo questo virus. Lei personalmente come la vive? Io la vivo benissimo, anzi sono contentissimo del fatto che ci sia una possibile soluzione ad una lotta che sta durando anche troppo, secondo i nostri canoni di sistema sanitario. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione tutti quanti, sicuramente dovremmo ancora mantenere degli accorgimenti come la mascherina, il distanziamento, il lavaggio delle mani, però si comincia a vedere un po' la luce in fondo al tunnel. Nessun dubbio nel dire sì a questo vaccino? Chiaramente nulla è sicuro, ma non abbiamo sicuramente da preoccuparci perché saremo comunque assistiti in quell'ambulatorio dove verrà eseguito il vaccino, da personale sicuramente preparato per qualsiasi evento avverso. Dal punto di vista tecnico si sono fatte tante ipotesi, come avverrà questa campagna vaccinale? Verrà chiaramente chiesta un supporto a tanti professionisti che hanno una task force di un pool di professionisti che potrà vaccinare gli altri colleghi. La cosa bella è questa, da passare da operatore sanitario a passare poi dal paziente che dovrà fare il vaccino, però ci sarà un pool di professionisti che farà questa campagna di vaccinazione e credo che a breve ne avremo già le prime iniezioni. Negli ospedali? Negli ospedali, certo. Grazie. Grazie.